Un traffico di cocaina dalla Spagna a Napoli. Attraverso l'operazione denominata Tarantella, la polizia spagnola ha arrestato tra Madrid, Malaga e Tarragona 32 persone, presunti esponenti dei clan camorristi a Prea e Norelli. Insieme a un gruppo criminale colombiano, gli arrestati avrebbero fatto transitare la cocaina dai porti spagnoli alla città partenopea. In parte il denaro raccolto restava in Italia, l'arresto veniva riciclato con attività commerciali e immobiliari in Spagna. Nel corso dell'operazione sono state arrestate anche 4 persone in Italia. Nelle 14 case perquisite intorno a Madrid sono stati trovati contanti per milioni di euro, confiscati dalla polizia fino a 2.800 kg di cocaina. L'operazione ora prosegue su possibili ramificazioni che porterebbero in Francia nei Paesi Bassi.